No, io dico un'altra cosa. Io dico che l'alternanza avviene quando c'è un perimetro di regole comuni tra le forze che si contendono il potere. L'alternanza sarebbe potuta avvenire a suo tempo tra i democristiani e i comunisti, una volta superata la fase ideologica legata alla Guerra Fredda. La difficoltà di questi anni è legata a una quantità di forzatura che sono state fatte sulle regole, perché cominciò il centrodestra nel 2005, prima ancora il centrosinistra aveva approvato la modifica del futuro. Però è vero che lei c'entra col Porcellum? No, io mi dichiaro vittima del Porcellum. Io ruppi con Berlusconi e Casini quando Berlusconi e Casini si misero d'accordo su quella legge elettorale. Poi la loro fortuna fu che Calderoli, che è un uomo di una certa danità, decise di appropriarsi dell'argomento e fece finta che la legge l'aveva fatta lui. In realtà la legge fu una decisione della leadership del centrodestra che radicalizzò molto la vita politica in quegli anni. Questo errore si ripete di volta in volta perché anche la forzatura di questi giorni di approvare con il voto di fiducia in una camera blindata una legge elettorale condivisa da una parte e avversata da un'altra, io penso che sia altra benzina che noi gettiamo sul fuoco. E a maggior ragione, quando è in atto una sfida populista, gli uomini del sistema debbono avere soprattutto a cuore le regole, le istituzioni, anche un po' il buon nome della politica, la sua civiltà. Se invece diventa una baruffa di tutti contro tutti, si creano le condizioni che poi consentono ai populisti di crescere ancora. Vado dal professor Pasquino perché si...